Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo qui per parlare del libro che vedete Profeti, Olegarchi e Spie, scritto da Franco Bernabè e Massimo Gaggi, Democrazia e società nell'era del capitalismo digitale, ma partiremo dal libro per parlare anche d'altro. E consentitemi in questa breve introduzione di raccontare un attimo, a beneficio anche di chi ancora non ha avuto l'opportunità e il piacere di leggerlo, di cosa parla questo volume e poi anche di spendere due parole su questo incontro, perché ritengo sia un incontro importante. Vi presento prima le persone che sono a mio fianco, ovviamente l'autore Franco Bernabè, oggi presidente di Acciaieri d'Italia, già ai vertici di colossi come Enie e Telecom, ma già anche autore di un altro libro per la terza di dieci anni fa, che è importante oggi ricordare Libertà Vigilata, perché già metteva i semi di quello che poi dieci anni dopo è stato molto più chiaro. Accanto a me c'è Roberto Rustichelli, presidente dell'autorità garante la concorrenza e del mercato, Giacomo La Sorella, presidente dell'autorità garante le comunicazioni e Roberto Viola, DigiConnet della Commissione Europea, della direzione generale che fa Cava Breton. Allora, dicevamo il libro, il libro di Gaggi e di Bernabè, mi verrebbe quasi da usare la parola manuale, solo guardando la bibliografia si potrebbe usare la parola manuale, perché è un libro corposo che ha diverse direttrici. Da una parte è un escurso storico dalle origini della rete negli anni 70, quindi fino a TikTok, a oggi, passando per l'11 settembre, a cui è seguito il Patriot Act, madre in qualche modo di tutte le leggi e di molte delle leggi che hanno poi permesso quella che è stata definita la sorveglianza di massa. Ma dall'altro lato c'è un'altra direttrice che è la disamina delle responsabilità. Questo è un libro che si prende la responsabilità di indicare, concedetemi il termine, anche i colpevoli di questa situazione, che sarebbe facile pensare siano solo i colossi dei big tech, ma non sono solo loro, non sono solo Google, Meta, Amazon, eccetera, ma sono anche chi non ha capito, quindi ha sottovalutato o, peggio, è stato complice di queste anomalie. Di mercato che hanno portato ad anomalie democratiche, come il titolo del libro dice. Colpe bipartisan, lo dico subito, nel libro si spiega molto bene, con dovizia di particolare, ripeto, la bibliografia vale la pena guardare. C'è Bill Clinton, la sua sezione 230 del Communication Essency Act, che ha aperto la strada in qualche modo a quello che viene definito l'eccezionalismo di internet, l'assenza anche di responsabilità dei giganti tech, ma anche della Corte Suprema Americana, che col suo orientamento conservatore in qualche modo ha avallato, ha aperto la strada ed ha avallato e incentivato l'invasione di campo della sfera economica in quella politica. Dicevo, un libro che mette in fila gli eventi e capire quello che è successo ci aiuta anche per non cadere proprio nella trappola del presentismo, del saper solo fotografare ciò che accade oggi, ma capire ciò che è accaduto ieri. Mette in fila gli eventi che hanno portato da una parte a questo impoverimento occupazionale, un dato su tutti, General Motors 50 anni fa incassava un decimo, un decimo dei profitti di Apple oggi, ma dava lavoro a 10 volte il numero di persone cui dà lavoro oggi Apple. Impoverimento di produzione intellettuale e anche democratico. Non a caso il libro si apre con l'assalto a Capitol Hill del 6 di gennaio di due anni fa. D'altronde è stato stesso presidente Mattarella nel suo discorso di reinsediamento a parlare di poteri economici sovranazionali che tendono a prevalere e a imporsi aggirando il processo democratico. Infine è un libro di grande attualità, grandissima attualità, nonostante parta agli anni 70 perché indaga anche le ripercussioni e le sfide geopolitiche di questi giganti, avrete letto tutti o comunque sentito parlare nelle interviste di queste ultime ore del presidente francese Macron a Politico, all'Eseco, sulla sovranità strategica europea che ci riporta in qualche modo al concetto più ampio di tecno sovranismo o di sovranismo digitale. che in qualche modo attraversa in varie parti questo libro a proposito anche del ruolo dell'Europa, ma anche delle ripercussioni di questi giga capitalisti nel mondo delle intelligence. E di nuovo qui quanto esse comunicano tra di loro e quanto la tecnologia le influenza è cruciale. Mi viene da pensare anche alla scelta di Xi Jinping pensando alle tecnologie e alle nuove forme di guerra, per esempio nello spazio, cyber e spaziale, la scelta di Xi Jinping di nominare il nuovo ministro della difesa che è l'ex vice capo dell'esercito spaziale cinese, il corrispettivo cinese della Space Force americana. Infine ne parlerà Bernabé tra poco la vicenda di chat GPT con tutte le sue incredibili possibilità che apre e rischi connessi. Quindi concludo con due parole proprio su questo incontro perché vorrei sottolineare in qualche modo l'eccezionalità, l'unicità di questo incontro che vede discutere a partire dal libro di Bernabé e di Gaggi i protagonisti, gli attori nazionali ma appunto anche europei, coloro che ai massimi livelli sono titolati e deputati a esprimersi su queste imponenti trasformazioni e imponenti cambiamenti in atto. Lascio subito la parola a Franco Bernabé e poi anche agli altri. Grazie Eva Giovannini. Intanto grazie a Presidente La Russa per averci concesso questa straordinaria sala in un giorno particolare, appunto il giorno successivo alle festività di Pasqua. Ma ringrazio soprattutto il Presidente Rustichelli, il Presidente La Sorella e il Direttore Generale Viola che sono, come diceva Eva Giovannini prima, le massime autorità sui temi di cui andiamo a discutere e che testimoniano della sensibilità che c'è in Europa per il tema della regolazione delle piattaforme, che è un tema che ha portato a una narrazione sul tema della tecnologia che è una narrazione che francamente è molto, come si dice in inglese, biased, cioè è una narrazione a senso unico in cui ci sono alcuni temi fissi e cioè che la regolazione non serve, che la tecnologia si sviluppa in assenza di presenza dello Stato, che la libertà dello sviluppo tecnologico deve essere totale. Ecco, quello che cercherò di presentare oggi al di là del libro, che poi vi ritroverete molti di questi argomenti all'interno del libro, è che la narrazione è sbagliata, la ragione per la quale la tecnologia ha avuto successo è una ragione diversa da quella per la quale viene difesa l'assenza della regolazione e la ragione, lo vedremo poi, è nel metodo di lavoro che non tanto i grandi protagonisti della tecnologia hanno scelto, i grandi protagonisti della tecnologia si sono impossessati del lavoro di migliaia di ingegneri, dell'engineering, della internet engineering task force che hanno messo il loro contributo a disposizione gratuitamente e con un metodo di lavoro che si è dimostrato di grande successo. Ora, che il discorso che facciamo oggi sia di estrema attualità, lo testimonia l'intervento che è stato fatto da Jeanne Easterly, che è la direttrice della Cyber Security and Infrastructure Security Agency americana, quattro giorni fa all'Atlantic Council. Perché è importante? Easterly parlava soprattutto su sollecitazione, era una tavola rotonda, parlava su sollecitazione dell'intervistatrice del tema chat GPT. e dice che il tema chat GPT è il problema di sicurezza di cui dovremmo preoccuparci per l'intero secolo. È il più grande problema di sicurezza che il mondo abbia mai avuto. Perché? Beh, le ragioni sono abbastanza evidenti. Chat GPT, il jailbreaking di chat GPT, cioè l'inserimento di codice, soprattutto di codice maligno, è molto semplice. Chat GPT si presta all'utilizzo del training su dati proprietari che poi vengono diffusi pubblicamente e della preoccupazione che il garante della privacy italiano ha avuto alla base del provvedimento con cui ha in qualche modo frenato l'utilizzo di chat GPT per questi momenti in Italia. Ma poi è andata avanti, Easterly. Easterly ha detto delle cose che nessuno aveva mai detto in più di 30 anni di sviluppo di internet. Cioè, Easterly ha detto che internet non è stata concepita per l'uso che se ne fa oggi. Ha un problema fondamentale di specifiche di progetto che è il problema della sicurezza e l'assenza di tecnologia per quanto riguarda il sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa creerà gli stessi problemi che ha creato la diffusione senza controlli delle piattaforme social che stanno distruggendo, dice Easterly quattro giorni fa, la salute mentale dei nostri figli. Ora, che una delle più grandi autorità americane in tema di sicurezza usi questi termini per la prima volta nella storia è molto significativo del fatto che per la prima volta anche negli Stati Uniti che si sono sempre opposti a qualsiasi tipo di interferenza nello sviluppo delle piattaforme tecnologiche si sta prendendo coscienza dei problemi che questo pone. Ora, assomiglia un po' questa situazione, la citavo perché assomiglia un po' alla situazione che si era sviluppata alla fine degli anni Ottanta e inizio degli anni Novanta. Perché Internet è stato diffuso con delle specifiche di progetto che non erano quelle per le quali viene utilizzato oggi? Beh, semplicemente perché alla fine degli anni Ottanta, inizio degli anni Novanta la pressione delle piccole imprese che utilizzavano abusivamente l'infrastruttura che era stata creata dalla National Science Foundation portò a una pressione politica talmente forte che nel 92 la National Science Foundation disse sapete che c'è, volete utilizzarla per fini commerciali e allora la liberalizzo così com'è e venne aperta agli usi commerciali anche se non era stata concepita per quello era stata concepita per un utilizzo dove i terminali di accesso erano noti e controllati serviva per collegare infrastrutture certe e soggetti che erano certificati quello serviva Internet e manca infatti fra i requisiti di progetto di Internet manca l'elemento essenziale che è il requisito di sicurezza quando venne progettato il problema era la resilienza e non la sicurezza e quindi era stato fatto per sostanzialmente all'epoca per risolvere un problema che era un problema di sicurezza di comando e controllo tant'è che nel 92-93 a quel punto anche i militari che invece utilizzavano la piattaforma decisero di uscire completamente di lasciare Internet al proprio destino e di costruirsi una piattaforma per conto proprio Dopodiché Clinton e Gore Gore ne fece un strumento politico molto importante ne fece la piattaforma per la sua ascesa alla vicepresidenza degli Stati Uniti Clinton lo utilizzò come strumento politico molto importante e vararono tutta una serie di leggi dal Telecommunications Act che regola le telecomunicazioni e dà totale libertà alle piattaforme di comunicazione come si chiamavano allora e tutta una serie di altre leggi come l'Internet Decency Act la sezione 230 dell'Internet Decency Act l'Internet Tax Freedom Act il Millennium Copyright Act cioè 4, 5, 6 interventi legislativi di grandissimo spessore che crearono una situazione di eccezionalismo giuridico perché di fatto garantivano l'immunità civile e penale nei confronti delle piattaforme ora voi potete immaginare che i poveri librai che dovevano preoccuparsi del fatto che se c'era una copertina con un'immagine sconcia erano soggetti a un'azione legale che dovevano pagare la local tax del 10% si trovano a competere con uno che è completamente esente dalla local tax quindi che già sul margine librario del 3-4% aggiunge il 10% di local tax che è indenne da qualsiasi tipo di sanzione penale civile per quello che viene scritto all'interno delle piattaforme è chiaro che in quel modo lì la concorrenza è molto facile e così si sviluppò Amazon così si svilupparono anche tante altre piattaforme tecnologiche che poi diventarono i giganti di oggi allora la situazione era diversa erano delle piccole società e diciamo che a suo modo anche l'atteggiamento dell'amministrazione della seconda metà degli anni 90 era gestificata dal fatto che occorreva togliere vincoli burocratici allo sviluppo dell'attività di internet e in questo modo si dava diciamo via libera alla creatività quello che poi si è sottostimato è che un altro provvedimento dell'amministrazione americana cioè il provvedimento che liberalizzò e rese che impedì che venissero tassate le plusvalenze sulle cessioni cosa che fece esplodere il venture capital quindi la combinazione fra la legislazione favorevole alle piattaforme e la legislazione favorevole all'utilizzo di risorse per lo sviluppo per l'accessione di attività e quindi per lo sviluppo del venture capital favorì una crescita che dopo la crisi del 2000 cioè dell'internet bubble riprese con più forze di prima ma con molta più concentrazione grazie anche a quella che viene chiamata la paypal mafia c'è una certa preoccupazione nell'utilizzare il termine paypal mafia ma la trovate anche su wikipedia quindi essendo stato formalizzato da wikipedia il ruolo di Elon Musk di Peter Thiel eccetera 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 quindi l'amministrazione americana utilizzò questa strumentazione legislativa molto molto importante e all'interno della quale probabilmente la più importante è la cosiddetta section 230 dell'inter decency act è interessante la storia di questo perché i legislatori americani correttamente si preoccuparono all'inizio che internet non venisse utilizzato per diffondere materiale pornografico come era successo per il dvd come era successo per il vhs cioè tutte le piattaforme tecnologiche avevano avuto la loro spinta grazie al porno e i legislatori americani giustamente dissero qui bisogna fare una regolamentazione che impedisca la diffusione del porno attraverso internet e fecero l'internet decency act l'internet decency act venne approvato al congresso e dopo due anni venne bocciato dalla corte suprema in nome della libertà di espressione garantita dalla costituzione americana però all'interno dell'internet decency act due deputati bipartisan tra l'altro inserirono la cosiddetta sezione 230 che sono poche parole ma che dicono sostanzialmente che nessuna delle nessun strumento di comunicazione elettronica può essere responsabile dei contenuti che attraverso di esso vengono veicolati cioè quindi indennità a una una totale libertà e de responsabilità uno scudo penale adesso io poi faccio il presidente di acciaieria d'Italia uno scudo penale totale civile e penale per le piattaforme però gli americani si preoccuparono dunque c'è una una cosa molto molto interessante che è un un'intervista fatta da Wired a un gruppo di start up cinese che del 96 è un'intervista straordinaria perché questo responsabile della start up cinese intervistato da Wired nel 96 disse una rete che consente a ogni individuo di fare ciò che vuole con tutto quel confuso chiacchiericcio buono e cattivo giusto e sbagliato tutto mescolato insieme una rete egemonica che danneggi i diritti degli altri non c'è dubbio che internet sia una colonia una colonia dell'informazione dal momento che vai online ti devi confrontare con l'egemonia inglese qui non si tratta di rendere internet più conveniente anche per quelli che non parlano inglese il nostro ideale è creare una rete esclusivamente cinese dopodiché ovviamente i cinesi sono andati avanti hanno fatto 20 provvedimenti legislativi tra il 95 e il 2000 di regolazione di internet eppure tutta questa attività di regolamentazione di internet non ha comportato nessun problema in termini di innovazione l'innovazione in Cina è andata avanti a ritmi eccezionali indipendentemente dal fatto che ci fosse probabilmente la più rigida regolazione del mondo questo non ha impedito gli spiriti animali i cinesi di fare quello che hanno fatto e di competere con successo con gli Stati Uniti tant'è che TikTok oggi è talmente di successo che gli Stati Uniti la vogliono abolire l'Europa si è comportata in modo completamente diverso riporto nel libro un episodio interessante e cioè che Clinton si vede molto da fare per promuovere a livello internazionale internet e mandò Aira Magaziner a promuoverlo lì ci avevano già il problema di Swift perché voi sapete che tutte le transazioni finanziarie mondiali vengono mirrorate sui server della NSA quindi qualsiasi cosa passi da Swift cioè qualsiasi transazione finanziaria che passi da Swift viene mirrorata il New York Times credo nel 96 denunciò la cosa e ci fu un problema gigantesco dal punto di vista diplomatico perché gli Stati Uniti non volevano ovviamente rinunciare al controllo di tutte le transazioni finanziarie che passavano attraverso Swift tant'è che poi alla fine si decise di andare avanti ma nello stesso momento sempre nel 96 in Australia si erano accorti di Ecelon e del fatto che Ecelon controllava massivamente tutto quello che passava su internet Ina Magaziner aspettò che venisse eletto Presidente del Consiglio europeo Juncker e andò da Juncker e gli disse guarda tu devi promuovere in Europa la stessa legislazione che c'è negli Stati Uniti cioè devi consentire a imprese americane di muoversi come si muovono negli Stati Uniti e venne infatti nel 2000 approvato il cosiddetto safe harbor che consentì alle imprese americane di crescere in Europa godendo degli stessi privilegi di eccezionalismo giuridico di cui godevano negli Stati Uniti e quindi la storia dell'Europa che è molto complessa nel libro se ne fa una parte ma ci sono tante ragioni per le quali l'Europa oggi soffre di una di una mancanza di dinamismo tecnologico come invece gli Stati Uniti la Cina e per certi versi perfino la Russia perché la Russia è stata ha vissuto una stagione di grande e ha una stagione di grande dinamismo tecnologico che riguarda ma posso dire solo la parte dark della tecnologia i russi hanno inventato il trading degli exploit degli zero day exploit cioè degli exploit delle vulnerabilità di internet che poi la NSA negli Stati Uniti ha fatto propria perché Keith Alexander quando venne nominato il generale comandante della Cyber Workforce anche lui si attivò per comprare exploit zero day exploit cioè le vulnerabilità di internet tra l'altro facendogli evitare i prezzi cioè quelle che una volta erano delle vulnerabilità che venivano messe a disposizione delle piattaforme o dei soggetti tipo Microsoft che sviluppavano codice e tra l'altro si arrabbiavano perché gli venivano segnalate sono diventate poi degli oggetti di commercio con gli exploit di Apple che valgono 15, 20, 25 milioni dollari ora il problema però è per tornare al tema poi lascerò la parola ai presidenti la sorella Lustichelli e al direttore Viola il problema è centrale il problema è se la regolazione freni o non freni lo sviluppo tecnologico che riporta anche un altro problema del perché le società di telecomunicazioni dopo l'introduzione di internet hanno vissuto una fase di declino che le ha portate alla fine negli anni 90 le società di telecomunicazioni erano dei giganti dei colossi che dominavano il mondo Tim era la sesta società del mondo di telecomunicazioni e negli ultimi vent'anni hanno subito un processo di erosione che le ha portato all'ombra di quello che erano una volta la mia tesi è che la regolazione non c'entra in niente anzi la regolazione avrebbe fatto bene come ha fatto agli inizi della storia della tecnologia cioè se noi abbiamo la tecnologia che abbiamo oggi è grazie al fatto che gli americani negli anni 50 e 60 quando c'era tutta un'altra filosofia antitrust negli Stati Uniti che ancora risaliva all'epoca di Brandeis alla Corte Suprema degli anni 20 e degli anni 10 gli americani decisero di utilizzare lo sviluppo della tecnologia venne fatto dall'autorità antitrust degli anni 50 e degli anni 60 quando separò il software dall'hardware e consentì di svilupparsi a un'industria autonoma del software altrimenti IBM sarebbe diventata un colosso che dominava tutta l'industria delle telecomunicazioni dell'informatica ma lo stesso per Microsoft anche Microsoft ebbe lo sviluppo lo sviluppo ebbe una spinta dall'apertura della piattaforma di Windows che era stata bloccata ma forse la decisione più importante era stata quella dell'antità del governo americano di aprire la disponibilità della tecnologia dei transistor a tutte le società che ne avessero fatto richiesta perché la tecnologia dei transistor era stata sviluppata negli anni 40 negli anni 50 da Bell Lab in una situazione di monopolio e gli americani avevano avuto diciamo il coraggio di dire no mettiamo una disposizione di tutti quindi il problema non è tanto la regolazione il problema è che il metodo di lavoro adottato da internet è un metodo di lavoro completamente diverso da quello adottato dalle società di telecomunicazione e questo lo disse bene lo disse bene Clark in un famoso David Clark in un famoso speech che fece in uno degli incontri dell'Internet Engineering Task Force nella quale disse noi rifiutiamo i re i presidenti e il voto noi crediamo nel 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 consenso approssimativo e nello scrivere il codice cosa significa il consenso approssimativo il consenso approssimativo era il metodo di lavoro della Task Force la Task Force era stata costituita diciamo su base totalmente volontaria negli anni 80 non c'erano guide non c'erano leader non c'era consenso alla fine era semplicemente che tutti mettevano a disposizione la loro capacità di sviluppo e la capacità e quello che emergeva era il risultato collettivo dello sforzo di tantissimi ingegneri ricordiamo per esempio che l'MPEG il motion picture la 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 tecnologia di compressione del segnale video che consente oggi di vedere in streaming la televisione è stata fatta con la leadership di un italiano Leonardo Chiariglione che era in che lavorava al a Torino ai laboratori ai laboratori dell'Oxelt quindi quel metodo di lavoro che vedeva tantissima gente lavorare assieme che 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 consentiva a tutti di dare la propria il proprio contributo allo sviluppo della tecnologia è stato un metodo di lavoro che ha spiazzato completamente il metodo di lavoro dell'ISO e dell'Istituto di Standardizzazione Internazionale e delle telecomunicazioni tant'è che in un altro in un altro famosissimo discorso fatto da un altro dei guru di internet cioè Mike Papdinsky disse il metodo di lavoro dell'ISO è un metodo prescrittivo il metodo di lavoro di internet è un metodo descrittivo il metodo prescrittivo si adatta alla teologia il metodo prescrittivo il metodo descrittivo si adatta alla tecnologia ecco quindi questo è in sintesi il tema di cui volevo parlare e adesso scusatemi è stato un po' lungo lascio la parola ai nostri presidenti e al direttore generale allora do subito la parola a Roberto Russichelli dell'autorità garante della concorrenza del mercato con una piccolissima riflessione proprio a partire dalle parole di Bernabè che ha citato Paypal e allora il ruolo dei regolatori rispetto a questi giganti che pone enormi sfide anche agli antitrust americano all'FTC americana ma anche ovviamente alla CMA del Regno Unito pone sfide che sono globali però poi ognuno all'interno dei propri stati insomma deve in qualche modo cercare di regolare sfide che sono come citava proprio il fondatore di Paypal Peter Thiel enormi lui stesso definisce la competizione è qualcosa per perdenti nel suo libro Da 0 a 1 sostanzialmente dice che lo sviluppo è figlio del monopolio e non della competizione ecco di fronte a questo si pongono i regolatori nazionali quindi Presidente Russichelli e lei la parola Buongiorno a tutti grazie per la pazienza che avrete nell'ascoltarmi ringrazio il senato per la ospitalità devo dire leggendo il libro tantissimi sono gli stimoli che ci danno Bernabè e Gaggi la sedia non va oltre quindi mi piegherò mi piegherò in avanti abbiate pazienza e devo dire condivido moltissimo di quello che il Dottor Gaggi ci ha detto adesso in realtà il lassismo delle autorità politiche e delle autorità preposte al controllo antitrust americano è evidente è evidente di fronte vedete a degli straordinari meriti che hanno avuto i GAFAN perché hanno cambiato la vita a tutti si è creata questa strana situazione in base alla quale si è tornati a concetti precedenti addirittura lo Shermaha nella valutazione dei fenomeni sotto il profilo della competitività e della libertà dei mercati se leggo testualmente il giudice Antonino Scalia ci dice il giudice all'epoca più influente della Corte Suprema ci dice come cita il libro che al fine di salvaguardare l'incentivo a produrre innovazione il possesso di un potere monopolistico non sarà considerato illegale e questa è una frase che distrugge la storia delle politiche antitrust americane gli americani lo Shermaha è nato cent'anni prima dell'autorità italiana se qualche altro come Peter Thiel dice che la competizione è roba da perdenti o che la Thiel difende solo i monopoli creativi realmente validi che le altre imprese non riescono a offrire un'alternativa comparabile come dice appunto queste teorie diciamo così soprattutto della scuola di Chicago noi abbiamo creato dei mostri la capitalizzazione di borsa dei GAFAM è 7700 miliardi ma nel 2021 ha raggiunto i 10.000 miliardi cioè 5 società al mondo capitalizzano 4 volte il lavoro di tutti gli italiani 4 volte quindi il pilo italiano 4 anni di lavoro italiano e la loro capitalizzazione altro grande tema che io vedo e che nessuno riesce a risolvere è quello della concorrenza fiscale noi abbiamo i paradisi fiscali una volta erano le Cayman le isole vergini oggi noi abbiamo i paradisi fiscali con l'euro in Lussemburgo l'Irlanda Malta Cipro Olanda voi pensate che in un paese come l'Italia che è un paese di piccole e medie imprese cosa significa dover pagare tassazioni spesso superiori nel complesso al 50% mentre per tanti anni ad esempio Google in Irlanda ha pagato lo 0,05 e quando la commissione europea la vicepresidente Vestager ha provato a intervenire purtroppo in assenza di una armonizzazione fiscale noi abbiamo creato l'euro senza armonizzazione fiscale quindi avere una moneta senza avere una base fiscale comune per i paesi manufatturieri come l'Italia è stato un disastro e tra poco vi darò dei numeri che sono abbastanza eclatanti su questo a un certo punto la vicepresidente Vestager interviene e lo fa con l'unico strumento che aveva a disposizione lo strumento degli utili di Stato che però è un strumento assolutamente inadeguato e ahimè questo aspetto lo coglie la Corte di Giustizia quando annulla l'obbligo di imposto dalla commissione a Google di restituire 13 miliardi di euro di tasse non pagate a Irlanda e devo dire che questo sta creando delle disarmonie di sistema straordinarie se voi pensate vi prendo tre paradisi fiscali l'Irlanda ha un reddito pro capite di 78 mila euro il Lussemburgo di 84 mila l'Olanda di 43 mila e l'Italia è rimasta in efferma a 27 mila noi siamo fermi siamo l'unico paese europeo il cui reddito pro capite è fermo da 20 anni tutto questo significa che evidentemente si sono creati dei meccanismi dove il paese che produce valore non riceve la tassazione salvo poi avere i costi fiscali perché se io ho un'azienda e produco valore in Italia e al contempo pago le tasse da un'altra parte in misura nettamente inferiore faccio tanti danni perché? perché l'Italia ovviamente non percepisce quello che è giusto perché poi l'Italia dovrà poi quando quell'impresa andrà in crisi pagare la cassa integrazione agli operai magari ha fatto dei finanziamenti eccetera e d'altra parte le nostre imprese si trovano ad avere una competitività ridotta dal fatto che non possono investire come le aziende che non pagano le tasse non possono creare più innovazione non possono creare pubblicità non possono investire nell'azione di lobbying che è un'azione ahimè estremamente forte da parte dei GAFA dopodiché la prova evidente di quello che ci dice Bernabè e Gaggi sta nel fatto che ci sono state 500 acquisizioni negli ultimi anni negli Stati Uniti da parte degli over the top e nessuna nessuna di queste è stata bloccata dalle autorità americane proprio per questa idea di lasciar fare di dare spazio a questi giganti e ovviamente queste sono spesso killer acquisition le killer acquisition come tutti sappiamo sono le acquisizioni fatte per evitare un possibile concorrente in un settore ad elevata obsolescenza come quello della rete ovviamente questo cosa produce produce il fatto che tutto si concentra un altro grande tema che si affronta e quindi diciamo nel libro è che io condivido è quello che non è solo in pericolo il mercato la sua struttura è in pericolo ma è in pericolo la democrazia perché noi quando abbiamo società che capitalizzano più del prodotto interno lordo di una delle principali potenze economiche al mondo abbiamo creato situazioni di concentrazione di potere economico talmente grandi che comportano dei grandissimi ricatti ai paesi sotto il profilo ovviamente degli investimenti dei disinvestimenti a maggior ragione sotto il profilo del condizionamento dei legislatori altro tema quello del break up l'ultimo break up che è stato fatto negli Stati Uniti risale come ci ricorda anche il libro al 1984 quello del settore telefonico dove a un certo punto da una società che era diventata talmente potente se ne creano otto tutto questo però oggi non avviene più un po' perché effettivamente è difficile pensare a un break up della rete ma d'altro canto per quello che vi stavo dicendo cioè che la teoria diciamo americana sul libero mercato è stata veramente disintegrata addirittura dalla pronuncia della Corte Suprema e da tantissimi giudici di recente l'FTC finalmente si sveglia e prova a bloccare l'acquisizione da parte di Meta Platform di Wiffin proprietaria dell'app di fitness in realtà virtuale Supernatural il giudice americano ristronca questo e cosa che succede mi diceva il Presidente Monti e la Vice Presidente Vestagli anche con la Corte di Giustizia Europea purtroppo i giudici che conosco bene perché ne porto ancora la toga hanno una come dire approccio di grande rigidità al contrario dell'economia l'economia non è statica l'economia come l'ermeneutica entra in vigore alla legge si interpreta l'economia è dinamica tutti i giorni cambia e quindi anche la Corte di Giustizia Europea ha bloccato tantissime iniziative della della vice competition ora ora bisogna secondo me ragionare in termini completamente diversi se è in pericolo la struttura del mercato se è in pericolo la democrazia in definitiva l'idea che i prezzi bassi e anche qui vorrei andarli a vedere poi questi prezzi così bassi sono una giustificazione sufficiente per non fare nulla ma noi non dobbiamo dimenticare che i consumatori non sono consumatori soltanto sono lavoratori e sono contribuenti e quindi tutto questo ragionamento pone come dire da qualche piccolo vantaggio ma toglie tanto altro concludo questo primo intervento accennandovi a invece un tema forse che tratteremo dopo dove ne ha parlato il dottor Gaggi che è quello dell'Europa ecco lì io scusate ma è una sedia un po' per invertebrati avendo la schiena rigida faccio una certa fatica a stare pericato in avanti ecco su questo tema penso che invece vi siano delle delle grandi diversità l'Europa ha provato come vi dirò dopo l'Europa ci ha provato e molto ci ha provato anche l'autorità italiana che ha fatto poi come vedremo dopo degli interventi estremamente importanti grazie grazie Presidente Rustichelli allora lascerò poi Presidente La Sorella le conclusioni di questo primo giro però siccome è stata chiamata in caso all'Europa e dall'Europa poi in qualche modo parte anche il dialogo con le autorità indipendenti italiane io lascerò adesso la parola a Roberto Viola direttore generale appunto del Dipartimento digitale della Commissione europea perché si è parlato di cosa ha fatto l'Europa vedremo se è stata tempestiva o meno ma sicuramente sono state fatte due direttive la Digital Market Act che si occupa in qualche modo del contenitore e la Digital Service Act appunto di cui Viola si occupa e si è occupato che mira anche a in qualche modo regolamentare i contenuti quindi lascerei a Viola la parola e poi le conclusioni al Presidente La Sorella grazie un saluto a tutti un ringraziamento al Senato per l'invito in questa sala un complimento agli autori per il libro un libro fatto molto bene molto documentato lo posso dire perché conosco quasi tutti le persone che sono state citate e tanti di quei episodi c'erano quindi posso dire che il libro è preciso e documentato sono stato chiamato in causa per l'Europa mi sembra giusto e quindi cercherò perché il libro non ne parla molto ma forse è anche giusto perché il libro si concentra su quei fatti che hanno portato un po' alla nascita di questo fenomeno che ha cambiato il mondo che è internet e che ha anche deluso il mondo poi perché poi tutte quelle promesse di libertà di apertura che l'internet quando è nato portava con sé un po' quando è entrato nelle mani dei grandi i campi datilisti e americani un po' hanno fallito ora l'Europa l'Europa in questo momento è io credo senza esagerazioni l'ago della bilancia del mondo e lo vedo tutti i giorni l'ago della bilancia di un mondo complesso di un mondo che è fortemente instabile se si guarda solamente il digitale l'Europa è il più grande mercato digitale del mondo per PIL quindi non è un posto dove si può far finta di non seguire le regole europee e per questo l'Europa è diventato si parlava del Digital Service Act del Digital Market Act del GDPR che è molto citato in libro che è il regolamento sulla protezione dei dati personali del regolamento sull'intelligenza artificiale che arriverà fra qualche mese sulle identità sulle criptomonete l'Europa è diventato il regolatore digitale del mondo forse non è il posto anzi certamente non è il posto che dà patria ai grandi capitalisti del digitale e c'è un motivo storico per questo che forse vale la pena ricordare è stato cercato Jean-Claude Juncker che io conosco bene e una volta gli dissi ma Presidente ma non ce l'hanno smartphone e lui mi dice no no io c'ho questo perché i smartphone si intercettano mica lo uso io il Presidente Juncker non era un grande appassionale del digitale devo dire non lo è mai stato e c'è un motivo perché in quell'ordine del mondo un po' se posso semplificare il mondo era spartito così l'Europa era grandissimo esportatore tuttora lo è di automobili di robot industriali di macchine industriali e aveva vanta tuttora una bilancia commerciale imbarazzantemente alta soprattutto tedesca nei riguardi degli Stati Uniti e a quel tempo anche nei riguardi della Cina la Cina soprattutto con l'amministrazione Obama è sempre più diventata la fabbrica del mondo e gli Stati Uniti il produttore di valore aggiunto digitale del mondo quindi c'era questa tripartizione durante la presidenza Juncker che ha fatto sì tutto sommato che l'Europa seguisse una sua linea che era quella di consolidare la sua egemonia per quanto riguarda la produzione tradizionale gli Stati Uniti mandavano avanti questi grandi capitalisti del digitale e la Cina consolidava la egemonia per quanto riguarda le fabbriche e poi c'era la Russia con l'energia questa quattripartizione del mondo ha cominciato a scricchiolare quando a sorpresa è stato eletto Trump se ne parla nel libro di questa sorpresa e io ricordo una cena con tanti della mia una specie di cena d'addio perché io avevo tutti i contatti con l'amministrazione uscente Obama e tutti piangevano come vitelli pensando diciamo che internet li aveva traditi sostanzialmente e che come dice noi abbiamo investito tanto in queste società che abbiamo supportato in tutte le maniere e poi loro sono diventati il megafono della vittoria di Trump ed erano sconvolti da questa cosa e quindi io ci facevo una bella figura perché le europee venivano sempre quel tempo era il tempo della riforma del diritto d'autore della grande riforma che fece l'Europa che effettivamente cambiò rispetto al metodo americano del cosiddetto uso giusto perché l'Europa invece protegge il diritto d'autore e mi ricordo che ci furono dei scontri violenti con l'amministrazione Obama e alla fine insomma ci avevi ragione te più o meno il tema della cosa dopodiché c'è stata la pandemia la pandemia è forse l'evento che ha più cambiato l'Europa e la percezione dell'Europa che ha di sé stessa nel libro viene detto che il piano di rilancio è una risposta tecnocratica dell'Europa al tema della crisi economica ecco il libro l'ho dato quindi posso dire io non sono d'accordo che è stata una risposta tecnocratica perché nella stessa pagina viene citato Hamilton il famoso segretario di Stato americano che ha inventato la fiscalità federale negli Stati Uniti ecco io credo che il piano di rilancio europeo è stato il momento ammintoniano dell'Europa ed è stata una decisione fortemente politica che noi venimmo chiamati direttori generali e questa è la decisione non è che il piano di rilancio è stato inventato dai direttori generali è stato messo in piedi dai tecnocrati ma fortemente voluto dagli Stati ed è una scelta politica quella di fare un debito imponente in capo alla Commissione europea che per la prima volta l'Europa si è data un debito comune per finanziare il rilancio dopo il Covid e quando venivamo un po' vedevamo la luce alla fine del tunnel è venuto il 24 febbraio la notte del 24 febbraio citata nel libro posso dire io c'ero con gli attacchi informatici che vennero dalla Russia verso l'Ucraina e con la percezione precisa di che cos'era che cos'è l'autonomia strategica europea che è l'acqua calda l'acqua calda quando uno apre il rubinetto ha bisogno del gas e ha bisogno dei chip che fanno funzionare la scalda bagno tutte e due cose che l'Europa è fortemente dipendente da qualcosa che veniva da fuori cioè l'Europa si è svegliata improvvisamente rendendosi fortemente conto che la dipendenza energetica la dipendenza tecnologica diventava fattore di frenare frenava l'economia la società e metteva a rischio l'equilibrio e da qui diciamo la prima di tutto la coscienza che non si può più fare a meno di avere una politica interna e una politica esterna su digitale del fatto che l'Europa tutto sommato aveva delle istituzioni e ha delle istituzioni democratiche che funzionano meglio di quelle americane perché le leggi riescono a farle perché in Stati Uniti poi c'è stato l'appello bipartisan del presidente Biden facciamo come ha fatto l'Europa però poi con il Parlamento americano con quella struttura che ha sempre bloccato da diverso tempo nulla è stato passato forse perché avendo le aziende più forti al mondo non c'era almeno la convenienza economica ma anche c'è una certa difficoltà del legislatore americano di arrivare a fare leggi l'Europa quindi si è posta a questo obiettivo di dare una struttura organica alla regolamentazione digitale almeno nel passare leggi c'è riuscita e adesso si trova la responsabilità diciamo di doverle attuare venendo quindi al tema specifico quali sono i rischi per la nostra società per la democrazia dell'internet in mano ai capitalisti senza le regole beh il rischio più grosso è il rischio algoritmico cioè è il rischio che sostanzialmente una macchina fatta per attirare l'attenzione delle persone non attira necessariamente la verità ma attira quello che è anomalo quello che è strano se qui si parlasse per esempio di un grande complotto tutti precisamente forse sarebbero più interessati e sarebbe uno sbaglio a un libro che racconta i fatti e la verità e questa caratteristica della natura umana che è tipica poi quando andiamo al cinema nel cinema ci piacciono delle storie un po' strane però la vita non è una storia strana deve essere una storia di fatti di racconti obiettivi di giornalismo professionistico tutto questo con l'internet commerciale che è perso e quindi le grandi macchine algoritmiche fatte per fare soldi hanno amplificato di tutto è quello che in inglese si chiama con termini abbastanza forti ma credo che rappresenta un po' il problema garbage in garbage out quindi immondizia immessa nel sistema immondizia amplificata dal sistema ecco questo è divenuto diciamo forse la punta dell'iceberg è stato l'attacco alle istituzioni americane che è un fatto sconvolgente nella storia l'attacco del 6 gennaio del 2021 al Parlamento americano è qualcosa che ha segnato per sempre sia la storia americana ma io credo la storia mondiale e questo attacco viene sei giorni dopo la presentazione appunto delle due regole digital services e digital market europee che sono riconosciute al mondo le prime regole che danno un po' la risposta a questa dominanza dell'algoritmo una risposta che necessariamente per quanto riguarda l'Europa deve essere europea europea perché non ha senso alcuno che ci sia una regola per le grandi piattaforme tedesche una spagnola una italiana non funziona però non fatta da Bruxelles ma fatta tutti insieme il modello di governance del digital service act del digital market act è un modello partecipativo cioè tutte le autorità indipendenti che sono responsabili lavorano insieme alla commissione europea per l'applicazione di queste regole funzioneranno? questa è un po' è la domanda che c'è anche nel libro beh intanto se si vede l'effetto politico devo dire l'effetto politico è notevole e quindi questo ci fa ben sperare che sia aperta una nuova fase una fase di un ordine purtroppo ancora instabile però dove l'Europa è protagonista vuole essere protagonista anche per garantire ai propri cittadini sicurezza e stabilità grazie grazie oddio scusate grazie direttore Viola adesso Giacomo la sorella presidente dell'autorità garante della comunicazione anche proprio alla luce della legislazione europea in particolare del digital service act di cui abbiamo appena parlato insomma il caso italiano peraltro è un caso abbastanza interessante perché rappresenta una delle prime esperienze a livello globale anche di cooperazione tra autorità di concorrenza telecomunicazioni e privacy con l'indagine anche conoscitiva che è stata congiunta che si è conclusa nel 2020 quindi prego presidente grazie tante innanzitutto grazie dell'invito grazie per l'occasione di leggere questo libro estremamente denso estremamente ricco estremamente stimolante è un libro che secondo me diciamo come nei giochi di enigmistica un po' unisce i punti nel senso a questo grande pregio rispetto a una serie di situazioni tutte molto complesse l'evoluzione digitale i rapporti sociali l'informazione la comunicazione politica il lavoro le relazioni tra gli stati la sorveglianza la geopolitica questo libro ha un grande pregio di unire questi puntini e darci sostanzialmente una visione d'insieme che è un dato estremamente prezioso il tema di fondo evidentemente è un temone insomma il rapporto tra tecnologia e democrazia è il tema sostanzialmente del nostro tempo non a caso il libro inizia con una immagine che è stata evocata dalla nostra moderatrice e dal direttore Roberto Viola quello dell'assalto al congresso americano che in qualche misura da parte di una folla inferocita che è stata sobbillata ma forse prima ancora alimentata e forse addirittura costruita dai social media in qualche modo mettendo in evidenza il contrasto tra diciamo le forme della democrazia tradizionale i parlamenti e il potenziale di rischio di questo diciamo dibattito polarizzato dei social media che può come si diceva nel sonno della ragione generare mostri i temi sono diciamo evidentemente l'impatto dell'innovazione sui principi alla base della nostra democrazia e insomma il fatto che il nuovo mondo dell'always connected non solo condiziona la comunicazione ma plasma in profondità lo diceva il dottor Bernabè all'inizio proprio le menti il modo di pensare anche il modo di pensare delle giovani generazioni basta pensare ai nostri figli che insomma vivono molto di fronte a uno schermo e in qualche misura sono profondamente il loro diciamo il loro mondo è condizionato da questo modo di insomma in questo modo si condiziona il loro modo di rapportarsi al mondo per quanto riguarda il rapporto tra democrazia e politica probabilmente diciamo oltre all'invasione oltre al tentativo di diciamo invasione del congresso americano l'elemento su cui il libro si sofferma molto che ha cambiato la prospettiva è stata proprio il caso di Cambridge Analytica come il micro targeting e come sostanzialmente la individuazione mirata delle preferenze dei vari soggetti possa profondamente poi influenzare i meccanismi di diciamo costruzione del consenso e anche di espressione del consenso come le camere d'eco come è stato approfondito dal costituzionista americano Cass Susten sono diciamo un po' il contrario del confronto democratico e rischiano drammaticamente di polarizzare l'opinione ecco diciamo questo sono tutti temi estremamente grandi e forse insomma addirittura forse il dottor Benabè avrebbe dovuto insomma invitare dei leader politici dei leader mondiali a parlarne proprio perché è diciamo una grande responsabilità della politica e tuttavia certamente diciamo una parte ce l'hanno anche i regolatori come ben evidenziato anche il collega Rustichelli e una parte i regolatori proprio perché diciamo in un quadro di norme sicuramente di livello europeo più che nazionale e sicuramente attuate dal legislatore nazionale poi sono i regolatori che in qualche modo sono più vicini al mercato e forse possono come dire in qualche modo con gli strumenti della regolazione ex ante della vigilanza talvolta anche delle sanzioni incidere su insomma sulle varie situazioni anche se molto spesso come dire la sensazione è quella come dire di rincorrere drammaticamente la realtà lo ricordava Roberto Viola l'Unione europea ha compiuto grandi sforzi nel settore nel delineare un modello europeo di regolazione del digitale dalle grandi direttive di settore io vado un attimo indietro per dire che queste sono le attività che occupano adesso le autorità delle grandi direttive di settore comunicazione elettronica e copyright e servizi di media digitali che in qualche modo hanno mirato sempre più ad avvicinare il settore tradizionale penso per esempio i media a quello delle video sharing platform e a quello del video on demand poi andando attraverso il DSA e il DMA sul DSA ne ha parlato Roberto Viola un tema molto interessante che è una chiave di lettura forse diversa da quella del libro è che in fondo la legislazione europea ha scelto di responsabilizzare le piattaforme cioè la legislazione europea ha scelto sostanzialmente di individuare una normazione che faccia sì che in primo luogo le stesse le stesse piattaforme controllino e le stesse piattaforme in qualche modo diciamo filtrino per esempio mi riferisco alla moderazione dei contenuti ma anche alla trasparenza algoritmica quindi una serie di obbligazioni poste direttamente sulle piattaforme è una una grande sfida anche perché inevitabilmente diciamo le piattaforme mirano a fare profitto e quindi sono difficilmente riescono come dire a mettersi la giacca del regolatore e del moderatore e tuttavia il rapporto tra autorità e libertà probabilmente passa sempre più attraverso le piattaforme come diceva un altro studioso americano Jack Balkin ha sempre più la forma di un triangolo nel quale sostanzialmente non c'è più il rapporto univoco diretto lungo la linea tra Stato e cittadino ma questo rapporto passa in qualche misura per il triangolo per un altro capo del triangolo che sono le piattaforme il tema è evidentemente in che modo regolare questo triangolo e far sì che in qualche modo il vertice comunque appartenga sempre al al vertice pubblico vorrei fare un altro cenno al tema diciamo rimanendo sull'evoluzione della legislazione europea abbiamo parlato di SE e DMA c'è un altro ci sono una serie di altre regolazioni che riguardano in particolare il mondo delle comunicazioni che sono infieri e che devono eseguire sono seguite anche con molta attenzione ovviamente dai parlamenti nazionali uno è sicuramente l'EMFA l'European Media Freedom Act che sostanzialmente mira a dare uno statuto europeo ai media e quindi sostanzialmente a stabilire una serie di regole minime anche nei confronti delle piattaforme che valorizzino il giornalismo di qualità e l'altro è la regolazione che riguarda la pubblicità politica che probabilmente dovrebbe essere pronta per le nuove elezioni europee è un tema delicatissimo in Italia abbiamo una par condicio sostanzialmente che è ancora ferma a una fase pre-digitale e evidentemente c'è bisogno di una grande riflessione in sede europea ma anche nazionale per adattare le regole della della propaganda politica al nuovo e mutato contesto un ultimo cenno poi diciamo nell'evoluzione del discorso parleremo anche di quello che in concreto abbiamo fatto di alcuni nostri interventi specifici è quello tra la cooperazione regolamentare tra livello nazionale e livello europeo e tra autorità nazionali ecco a mio sommesso avviso e lo diceva anche il direttore Viola la regolazione di questi fenomeni complessi si fa soprattutto in Europa in forma partecipata noi come autorità convergente partecipiamo a tre gruppi di regolatori il BEREC l'ERGA e l'ERG post dell'ERGA per quest'anno io ricopro anche la presidenza quindi l'ho guardata particolarmente da vicino ecco questo metodo di confronto da un lato con le istituzioni europee ma dall'altro anche tra regolatori quindi insomma mettendo a confronto best practices problemi risoluzioni questioni è un confronto sicuramente utile prezioso e sfeguardo e a questo metodo di confronto probabilmente deve far riscontro anche un altrettanto intenso dialogo tra le autorità a livello nazionale abbiamo proprio con l'autorità della concorrenza in corso di sviluppo un protocollo di intesa che amplia e diciamo adatta modernizza un protocollo già esistente lo stesso stiamo facendo con la privacy insomma per questi fenomeni complessi come quelli del mondo digitale sicuramente la risposta non può essere che diciamo una risposta non di singole istituzioni ma una risposta corale che ovviamente vede in primo luogo le istituzioni politiche ma poi immediatamente dopo al loro fianco anche le istituzioni della regolazione grazie grazie presidente la sorella allora facciamo così adesso facciamo un giro di domande se siete d'accordo cercherò di mettere insieme uno o due spunti di riflessione per ognuno di voi e poi magari se c'è tempo magari aggiungiamo anche qualche riflessione ulteriore parto di nuovo da lei presidente Rustichelli in un paragrafo del libro di Franco Bernabè si parla proprio del risveglio dell'Europa il direttore Viola prima ha parlato di Europa come ago della bilancia pur in assenza sul territorio europeo diciamo di big tech come negli Stati Uniti e forse non è un caso che il regolatore europeo si sia poi alla fine concentrato più su le dimensioni del mercato piuttosto che sulle posizioni dominanti piuttosto che come dire sui costi per gli utenti come invece ha fatto il regolatore l'antitrust americano a partire anche dal paradosso poi di Amazon una di queste gaffa ben descritto dall'attuale presidente della FCA americana Alina Khan che ha proprio parlato dell'Amazon paradox rispetto all'antitrust dunque tutto questo pone un tema europeo e riflettevo stamani leggendo il Corriere della Sera che riportava Macron sul volo di Stato di ritorno dalla Cina che parlava di sovranità tecnologica europea indossando una felpa con scritto French Tech quindi se riusciamo davvero a giocare una partita collettiva una partita europea o se da questo punto di vista poi come dire le singole esigenze nazionali possono invece essere un ostacolo quindi da una parte l'Europa e dall'altra parte non possono chiederle da presidente dell'antitrust quali criticità pensa che si possano ravvisare nel garantire la libera concorrenza e in questo senso allora quali sono le sfide poste alla politica i nostri autori ci dicono in un passaggio l'Europa non ha la forza di imporre una struttura di mercato diversa se gli Stati Uniti non si muovono nella stessa direzione come vi accennavo prima io sono più d'accordo in questa riflessione con il direttore Viola che con i nostri autori atteso che l'Europa ha fatto uno sforzo per un regolatorio straordinario il DMA il DSA sul DMA dove noi abbiamo ovviamente il nostro core business al contrario sul DSA ce l'ha l'amico la sorella vi posso dire che il grande è stato il contributo del governo italiano e dell'autorità italiana noi abbiamo cercato rispetto al testo iniziale di mantenere le competenze delle singole autorità nazionali sull'articolo 101 quindi le intese e l'articolo 102 del trattato e su questo l'Europa ha fatto una riflessione e alla fine diciamo ha come dire creato un meccanismo di interscambio fra commissione e singole autorità nazionali a mio avviso estremamente virtuoso altra riflessione che si fa in Europa ad esempio e che anche abbiamo fatto oggetto di una riflessione fra le nostre due autorità col presidente e la sorella è quella dello sfruttamento da parte degli over the top delle strutture e degli investimenti degli operatori telefonici prima il dottor Bernabè accennava a questo e effettivamente non appare molto equo e neanche come dire molto utile secondo me al mercato italiano e al mercato europeo che finora gli investimenti li abbiano sopportati le società di servizi e tutto il resto sia invece gratuito da parte dell'ossfruttamento gratuito delle infrastrutture da parte degli over the top cosa comporta questo come sapete le infrastrutture dei servizi telefonici sono infrastrutture rapida obsolescenza e quindi richiedono grossissimi investimenti e per fare gli investimenti le società devono fare evidentemente marginalità perché se no con un capes molto alto come quello del settore dei servizi telefonici se non si crea marginalità non si riesce a sopravvivere pensate che il malmargin delle società telefoniche in Italia è intorno al 2-3% e quindi questo crea un grosso problema l'altra questione come stanno affrontando le autorità nazionali europee ovviamente le autorità nazionali intervengono esposte noi siamo un'autorità non regolatoria e quindi noi facciamo i casi per essere chiari facciamo il public enforcement l'advocacy direi che le principali autorità europee hanno fatto molto negli ultimi anni e in particolare ho l'orgoglio di dirvi che l'autorità italiana ha affrontato alcuni dei principali casi non solo di rango europeo ma anche di rango mondiale tant'è che alla recente riunione in Portogallo dei presidenti di tutte le autorità europee della rete europea della concorrenza e della DG competition il presidente tedesco e ve lo dico veramente con orgoglio per l'Italia ha detto vi devo confessare cari amici che il governo tedesco mi ha chiamato e mi ha chiesto come mai l'autorità tedesca non fa i casi digitali dell'autorità italiana ve ne cito uno che penso che quasi tutti conosciate che è il caso Amazon al di là della sanzione estremamente importante proporzionato ovviamente alle dimensioni del colosso oggi tutti i paesi europei applicano come impegni presi da Amazon con la DG competition gli obblighi comportamentali che gli ha imposto l'Italia ma l'Italia ha aperto anche di recente un caso che è un leading case il caso Metasiae perché è un leading case questo Parlamento ha fatto una norma all'avanguardia in materia di abuso di dipendenza economica e l'autorità l'ha immediatamente sfruttata l'abuso di dipendenza economica ha ovviamente una parte civilistica e l'autorità interviene quando l'abuso perpetrato da una delle parti nei confronti dell'impresa più debole ha delle rilevanti implicazioni sulla concorrenza sul mercato non voglio entrare nei dettagli il caso l'abbiamo appena aperto abbiamo fatto un cautelare audita audita significa che ascolteremo le ragioni delle parti garantiremo il diritto di difesa come giusto che sia però anche su questo è il primo caso di abuso di dipendenza digitale al mondo passando alla seconda parte della sua domanda grande crisi delle catene del valore ecco qui l'Europa si è svegliata come dicevano i colleghi di tavolo si è svegliata all'improvviso e ha capito che deve far qualcosa perché perché non è possibile che su settori nevralgici ma non solo come quello dei microchip del digitale ma io me ne dico un altro i principi attivi farmaceutici oggi i principi attivi farmaceutici sono prodotti a costi bassissimi da Cina e India immaginate quel quadro se dovesse destabilizzarsi ad esempio per la questione di Taiwan noi avremmo che per i diabetici il mancato arrivo dei principi attivi che curano il diabete provocherebbe 30.000 morti il primo mese in Italia l'Europa di questo si deve preoccupare cioè noi dobbiamo ritornare a essere in possesso delle catene del valore altro grande tema a mio avviso dove gli americani si stanno svegliando adesso ma a parole è quello del più grande monopolista organismo di monopolio vivente da sempre che è l'OPEC ma signori vi rendete conto che un bene che non è infinito e quindi non è disponibile a tutti ma che consente al pianeta di vivere perché il petrolio consente di creare voglio dire medicinali piuttosto che i beni alimentari piuttosto che l'acqua che corre piuttosto che voglio dire le cure mediche e quant'altro viene gestito con un monopolio di stati nel 1979 se ricordo bene un cittadino americano andò da un giudice americano a chiedere l'accertamento del monopolio illegittimo da parte dell'OPEC ebbene quel giudice ci disse perché disse a tutti che quella sentenza ovviamente è una sentenza che continua ad avere i suoi effetti che non si poteva fare legalmente niente perché perché uno Stato sovrano non può essere considerato un professionista come tale sanzionale questo è un tema un tema grandissimo che si deve porre anche l'Europa a mio avviso da ultimo CHAP GPT noi siamo un'autorità come vi dicevo di intervento di ex post e quindi per il momento non siamo investiti direttamente dalla diciamo dalle vicende che hanno interessato invece le competenze dell'autorità della privacy italiana certo come sottolineava il direttore Viola il pericolo dell'algoritmo è enorme e quindi il rischio veramente è forte e qui io credo che tutti quanti dobbiamo soprattutto in queste sedi sensibilizzare chi di dovere per un intervento regolatorio non si può lasciare non si può lasciare che nascano queste imprese che hanno la possibilità di manipolare il mondo di manipolare i nostri dati a prescindere da questioni etiche ci sono delle questioni giuridiche straordinarie sottese ma come vi dico vi dicevo nella mia autorità vigilerà ma per il momento ovviamente il quadro per noi è ancora abbastanza lontano da venire come attività di intervento grazie per la pazienza che avete voluto grazie presidente Rustichelli a proposito di Europa allora volevo chiedere al direttore Viola proprio una riflessione su questo cioè l'Europa non ha appunto campioni mondiali come abbiamo visto le GAFA le OTT ma le due direttive europee la digital market e la digital service ricordano al mondo appunto il ruolo regolatorio di primo piano dell'Unione Europea e in qualche modo il primato nel diritto dell'Unione Europea volevo chiedere al direttore Viola se ritiene questo sufficiente però e in qualche modo se vede all'orizzonte delinearsi questa nuova sfida geopolitica cioè se gli Stati Uniti in qualche modo permetteranno all'Europa di spacchettare o di insidiare i loro monopolisti americani e quindi la seconda domanda immediatamente collegata è che cosa si intende dal suo punto di vista quando si parla di autonomia strategica europea cioè quando ci sono di mezzo le tecnologie e il digitale esistono tecnologie sovrane grazie due domande sono molto collegate l'Europa è in effetti il ricordatore digitale del mondo però diceva lei lo confermo non si mangia pane regole insomma è un po' indigesta e in questo devo dire c'è questo paradosso un po' europeo bravi a fare le regole bravi a fare la tecnologia perché l'Europa ha inventato molto delle cose che poi i capitalisti americani sono riusciti a portare sul mercato il wifi le tecniche di trasmissione sono tutti brevetti europei l'empeg amico chiariglione mi ricordo che sono stato quando lavoravo all'agenzia spaziale europea il primo che l'ha finanziato e poi però purtroppo l'Oxelt è stato chiuso dopo la tua partenza un atto suicida da parte dell'Italia quello di chiudere uno dei centri ricerca più più importanti al mondo il World Wide Web è stato inventato da un europeo da Ginevra che è ben descritto nel libro quest'anno tre premi Nobel per la fisica due sono europei e fanno parte del programma quantistico europeo che fa parte della mia direzione in generale quindi devo dire l'Europa è bravissima nella scienza nella tecnologia è brava nelle regole non riesce diciamo nella parte industriale a poi esprimere queste due eccellenze un po' l'ho detto la ragione perché la parte industriale europea si è un po' fermata alla alla dottrina tedesca quella sostanzialmente finché l'esporto va bene perché preoccuparsi e anche un po' perché la struttura corporate europea è molto complessa e soprattutto diciamo un pochino e questo ce lo può dire meglio di tutti il dottor Bernabè agli amministratori viene chiesta la stabilità piuttosto che il rischio cioè nel sistema americano ci sono le cosiddette azioni tipo A quelle tipo B quelle tipo A si decide normalmente sono in mano all'imprenditore digitale e di quel tipo B sono in mano al mercato quindi in sostanza l'imprenditore digitale ha mano libera se il signor Elon Musk decide di investire sui razzi lo fa e lo decide non va a un consiglio di amministrazione fatto da banche fatto da investitori istituzionali che gli fanno tante domande l'Europa con i criteri di Basilea si è inventata che investire in infrastrutture tecnologiche come per esempio banalmente reddite è rischioso per cui in questo momento c'è il paradosso che grandi fondi australiani americani sono interessati alla rete italiana e non c'è manco un fondo europeo perché le regole di Basilea non permettono questo quindi diciamo l'Europa ha bisogno di una riforma profonda del suo sistema corporeto perché è questo forse il più grande tallone d'Achille in questo momento che è all'Europa si è fatto uno studio da McKinsey molto interessante sulla produttività media delle imprese e si vede che le imprese europee faticano perché hanno dei costi di lavoro più alti hanno un sistema diciamo di protezione che non ce ne vantiamo ed è giusto che sia così dei lavoratori più strutturati che in altre parti però c'è anche l'aspetto della un po' allergia all'innovazione e su questo l'Europa deve lavorare tanto e secondo me ben venga che tante regole siano semplificate e fatte a livello europeo perché poi c'è un po' la tentazione a livello nazionale di mettere quella che si chiama i colpletti quindi un po' la laccatura d'oro sopra le regole che questo non deve essere fatto perché poi se già le regole europee alle volte sono un po' pesanti e poi ci si mette pure il carico nazionale diventano insostenibili per le imprese in questo devo dire l'Italia ha regolatori è stato detto e lo posso confermare perché lo vedo tutti i giorni in Europa di primissimo livello e sono qui al tavolo e forse questo rischio non lo occorre nei settori che sono regolati dalla GCM e dalla GCOM però sempre il tema bisogna porsi il tema se c'è una regola europea evitare poi di appesantirla con tante belle nazioni il rapporto poi lei mi chiede il rapporto con gli Stati Uniti in questo momento il rapporto con gli Stati Uniti è ottimo francamente l'amministrazione Biden è l'amministrazione più pro-europea che ho mai visto rispetto a quelle passate sia democratiche che repubblicane e in questo diciamo lo dimostra l'OPED che ha fatto il presidente Biden sul Wall Street Journal che ha detto sostanzialmente invito il legislatore americano a seguire l'Europa e darsi un accordo bipartisan sulle regole però poi devo dire gli Stati Uniti hanno messo sul piatto negli ultimi mesi centinaia di miliardi di dollari di sovvenzioni all'industria e in Europa c'è un dibattito anche giusto perché di nuovo l'Italia questo non se lo può permettere quindi non può permettere l'Italia che la Germania sovvenzioni le sue aziende e questa è la logica delle regole degli aiuti di Stato europei è una logica di equilibrio fra chi ha un po' di più chi ha un po' di meno però questo non impedisce all'Europa insieme di reagire a questa diciamo nuova tendenza del si fa in America si compra in America si sviluppa in America in questo l'amministrazione Biden è in perfetta continuità con l'amministrazione Trump non ha cambiato la linea e questo per noi europei è un problema quindi non abbiamo nessun problema sul piano delle regole anzi siamo portati a esempio in tutte le grandi università americane in tutti i grandi diciamo dibattiti americani per quanto riguarda la politica industriale ritorniamo a quello che dicevo prima c'è tanto ancora da lavorare anche sul piano dell'intervento dello Stato di nuovo citato nel libro si cita la Marianna Mazzucato l'importanza dello Stato nelle grandi innovazioni se si pensa il GPS che usiamo tutti noi ai telefonini per girare intorno e non perderci è un sistema sostanzialmente completamente finanziato dallo Stato come il sistema di navigazione europeo che è libero grazie direttore Viola a questo punto poi lascerei a Franco Bernabè la domanda finale e eventualmente le conclusioni di questo incontro quindi chiedo adesso al presidente la sorella stante la domanda di fondo di tutto l'incontro di oggi cioè se possono queste attività regolatorie siano esse ex ante o ex post davvero fermare questa rivoluzione o se non sia in qualche modo tutto un po' too little too late secondo voi secondo lei dal vostro punto di vista chi spetta il ruolo del timone in questa traversata cioè è più un ruolo politico un ruolo di mercato spetta alle organizzazioni sovranazionali e come le autorità indipendenti dialogano tra di loro come collaborate se collaborate tra di voi ma anche con l'Europa naturalmente e poi visto che Benabè ha aperto l'incontro parlando di chat di GP e come la direttrice cyber security abbia ricordato anche i rischi connessi la Gcom ha portato a casa insomma un'importante legge sul sul copyright in qualche modo sull'eco compenso mi chiedo allora visto che tutto ciò che è artificial intelligence non è ancora normato se cercando di guardare con la palla di cristallo al futuro se secondo voi chat GDP dovrebbe essere in qualche modo messa nelle condizioni di pagare il copyright o no ma grazie sono tempi estremamente densi e complessi una considerazione di carattere generale lo accennavo prima sicuramente il livello è innanzitutto quello europeo perché diciamo oramai la complessità la grandezza di questi fenomeni travalicano sicuramente i confini nazionali e anzi c'è un aspetto della legislazione europea che è molto importante via via si tende a superare quello che era uno dei capisaldi della legislazione europea che era il principio della nazione d'origine questo principio della nazione d'origine ha creato un sacco di danni perché sostanzialmente ha fatto sì che come per il tax shopping forum shopping si scegliesse sostanzialmente il luogo dove basarsi per avere una legislazione più favorevole abbiamo parlato nel conseguenso di parte dell'Irlanda dell'Olanda eccetera ecco la nuova legislazione europea soprattutto su digitale ha questo grande pregio che si applica in modo uniforme a tutti i paesi europei e questo è sicuramente un punto di grande vantaggio quindi lo dicevo prima necessità di collaborazione tra le istituzioni europee le istituzioni nazionali e poi anche inevitabilmente con i regolatori per quanto riguarda i regolatori io insomma noi come dire siamo su un livello più basso come dire curiamo insomma un po' le cucine la sala macchine del rapporto con il mondo digitale e qui mi piace citare soprattutto due casi uno al quale accennava la nostra moderatrice uno è quello per esempio della regolazione di Dazon si è tanto discusso è stato un tema che è molto appassionato la famosa rotellina insomma tante discussioni tanti contrasti ecco secondo me sommessamente non perché l'abbiamo fatto noi ma insomma si è trattato di un caso in qualche misura virtuoso in cui il regolatore ha collaborato anche le imprese hanno collaborato con il regolatore in qualche modo riuscendo a stabilire delle regole che credo sommessalmente poi saranno un punto di riferimento anche per gli altri operatori del mercato noi ci siamo preoccupati innanzitutto prima della tenuta della rete e abbiamo imposto agli operatori telefonici di mettere una serie di cdn che sostanzialmente tenessero la rete e questa cosa diciamo noi all'inizio avevamo detto ne dovete mettere almeno una decina oggi ce ne sono 300 quindi insomma l'intuizione all'epoca è stata un'intuizione content delivery network sono le cdn io non sono ingegnere ma mi hanno spiegato che sono appunto quegli strumenti che servono come si diceva una volta nel mondo digitale a moltiplicare in qualche modo il segnale a renderlo fruibile anche molto lontano dal luogo in cui si origina quindi prima di tutto ci siamo preoccupati che tenesse la rete poi ci siamo preoccupati di fissare degli standard qualitativi per le trasmissioni e abbiamo collegato a questi standard anche la possibilità di chiedere indennizi in caso in cui questi standard non fossero rispettati e poi abbiamo fissato un importantissimo principio che poi è stato ripreso anche poi dalla legislazione europea negli europei media freedom act che è stato quello di stabilire delle regole chiare e trasparenti per la misurazione delle audience la misurazione dell'audience è un tema fondamentale nel mondo dell'audiovisivo ed è un tema fondamentale anche nel mondo digitale perché inevitabilmente misurare le audience significa dare una quantificazione economica al traffico e quindi allocare la pubblicità e dare il giusto prezzo alla pubblicità finora le piattaforme hanno sempre sempre dato loro i dati del loro traffico insomma secondo il famoso adagio dell'oste che parla del suo vino invece tendenzialmente una regolazione dell'audience fatta attraverso metodi oggettivi è il primo passo per aprire il mercato e renderlo più trasparente questo l'abbiamo fatto per Dazon e via via stiamo estendendo questi criteri anche a altri settori del mercato un ultimo cenno rapporto editori piattaforme anche qui follow the money anche qui per la prima volta grazie anche alla diciamo lungimiranza del legislatore italiano che ha integrato le regole europee spero in modo non troppo invasivo come direbbe il direttore Viola abbiamo fissato una regolazione di dettaglio per quanto riguarda la remunerazione dei contenuti giornalistici utilizzati dalle piattaforme e veicolati dalle piattaforme qui c'è un vantaggio astrettamente reciproco perché la piattaforma veicola i contenuti ma è il giornale che le produce allora il tema è stabilire che una quota delle remunerazioni delle revenues dei redditi che derivano da questo sfruttamento vada evidentemente anche ai giornali abbiamo fissato queste regole sono in corso adesso le trattative tra editori e piattaforme guardiamo con trepidazione a che insomma questo meccanismo funzioni e sia virtuoso se come auspichiamo funzionerà sarà un importante passo verso la regolazione di un aspetto certamente minimo e marginale rispetto ai grandi temi ai numerosi temi che sono trattati nel libro ma tra l'altro proprio nel libro si dice in un certo passaggio che gli Stati Uniti non sono riusciti a fare un'operazione del genere nonostante lo abbiano detto più volte e ci sia stato un grande dibattito quindi il fatto che innanzitutto la legislazione europea poi con l'apporto del legislatore italiano che è ulteriormente dettagliato e poi il regolatore in qualche misura abbiano provveduto a mettere in piedi questa regolazione è sicuramente un motivo di orgoglio e di auspicio di buon auspicio per il futuro grazie presidente la sorella allora un'ultima domanda per Franco Bernabè a cui poi ovviamente lascio la parola per tutte le conclusioni anche su tutte le spigolature affrontate in questo incontro stamattina rispetto proprio al tema dell'antitrasse e della regolazione di tutto questo mercato fatto di giganti e di formiche spesso appunto uccise sul nascere però c'è un capitolo anzi due capitoli di questo libro che pongono a proposito di regolazione regolamentazione globale delle domande che sono interessantissime e al contempo altrettanto inquietanti sono due capitoli che parlano diciamo così della guerra si parla naturalmente di Elon Musk si parla degli Robert Barons che oggi sono gli stessi protagonisti sono gli stessi Space Barons che si comprano in qualche modo i satelliti abbiamo citato Peter Thale che con il suo Palantir adesso ha lanciato i satelliti in aria e in qualche modo tutta la tecnologia che oltre un certo livello come dire è per forza duale in qualche modo non è soltanto commerciale ma è anche di difesa Elon Musk ha fatto in qualche modo della assenza delle regole un po' un suo manifesto politico e industriale e nel libro ci sono tutta una serie di pentiti del web persone che hanno lavorato da dentro la macchina e poi hanno raccontato tutte le insidee rischi e le distopie che la macchina ha prodotto ora Elon Musk non è affatto uno di questi pentiti però persino lui scrive nel libro Bernabè quando si parla di armi mette in guardia dal rischio dell'intelligenza artificiale e scrive leggo testualmente dice Elon Musk immaginiamo cosa può accadere se un'intelligenza artificiale viene affidato un compito esplicitamente distruttivo è per questo che io pur essendo normalmente contrario alla regolamentazione che frena creatività e innovazione nel caso delle armi autonome letali sono convinto che i governi debbano intervenire devono farlo in fretta perché l'intelligenza artificiale applicata alle armi è più pericolosa della bomba atomica niente presidente come si comincia da che parte si può cominciare per sempre che lei condivida le parole di Musk per come dire regolamentare l'intelligenza artificiale che niente è più globale di questa sfida e di questo rischio ma innanzitutto devo dire che il dibattito di oggi è stato veramente molto molto interessante ovviamente non poteva che essere diciamo data la qualità delle persone che sono intorno a questo tavolo ma è un dibattito che secondo me è importante anche alla luce di quello che sta avvenendo in questo momento nel mondo il mondo è cambiato profondamente rispetto alla fine degli anni 90 quando si pensava che la storia fosse finita e che cioè il mondo si sarebbe adagiato sostanzialmente in una stabilità senza scosse dominata dall'espansione della democrazia liberale e di mercato promossa dagli Stati Uniti invece ha dimostrato il mondo di essere ancora il mondo del trattato di Vespaglia il mondo nel quale gli stati sovrani hanno un ruolo importante e tanto più importante in quanto tutte le svolte della storia sono svuote che sono state determinate dall'emergere di una nuova potenza globale e dal declino della potenza globale preesistente ora forse Putin in questo ha sbagliato nel senso che ha pensato che il declino degli Stati Uniti fosse già compiuto mentre invece è ben lontano dall'essere compiuto e che la Cina invece sia una potenza già emersa mentre invece è ancora una potenza che deve emergere e devo dire che la vicenda degli ultimi dodici mesi da quando è scoppiata la guerra in Ucraina ha dimostrato quanto fossero sbagliate le valutazioni di Putin e anche di Xi Jinping sul declino dell'Occidente l'Occidente non è in declino ha dimostrato una straordinaria superiorità tecnologica e questo non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa e ha dimostrato una coesione una capacità di risposta che è veramente straordinaria quindi diciamo che siamo lontani dalle premesse che avevano spinto Putin a fare la guerra e Xi Jinping sostanzialmente a stargli dietro c'è un articolo che è uscito nell'ultimo numero di Foreign Affairs che è molto interessante perché dice noi abbiamo scoperto improvvisamente grazie sempre alla guerra che la capacità manifatturiera è fondamentale che non serve che non basta semplicemente essere diciamo all'origine della catena produttiva cioè nella fase di disegno di progettazione e di concezione imprenditoriale ma bisogna avere un presidio su tutta la filiera gli Stati Uniti dice l'articolo di Foreign Affairs hanno sbagliato completamente ed era l'articolo di apertura della rivista di questo mese hanno sbagliato pensando di decentrare tutto fuori e perché la forza di un paese dal punto di vista economico non sta tanto nella capacità di presidio sulla fase più alta della filiera ma sta nella capacità di saper fare le cose e saper fare le cose significa avere l'intelligenza per progettarle avere la capacità manifatturiera per realizzarle avere la capacità commerciale per distribuirle cioè è un insieme un complesso di competenze che dà la completezza della forza economica di un paese in questo senso l'aver decentrato tutta la capacità manifatturiera alla Cina e agli altri paesi del sud est asiatico è stato un grande errore dal quale dobbiamo fare marcia indietro e gli Stati Uniti lo stanno facendo con l'Inflation Reduction Act l'Europa questa capacità manifatturiera ce l'ha la capacità di fare ce l'ha l'Italia questa capacità di fare a me io mi sono irritato quando ho sentito una persona che mi ha detto ah ma noi siamo dopo la vicenda dei chat del GPT mi ha detto ah ma noi siamo come la Corea del Nord ma non è vero l'Italia ha una straordinaria capacità manifatturiera una capacità straordinaria nel fare e questo spiega il motivo per cui negli ultimi sette anni siamo andati sempre meglio di quello che invece prevedevano i profetti di sventura e perché siamo andati meglio perché uno deve andare a vedere anche le ragioni per le quali la capacità manifatturiera italiana si è sviluppata e ha consentito negli ultimi anni di avere un'espansione dell'occupazione straordinaria come mai si è registrato nel passato delle dinamiche economiche straordinarie con dei tassi di crescita stupefacenti che smentiscono anche le previsioni più buie che hanno state fatte di recente sul fatto che il 2023 sarebbe stato un anno disastroso no l'origine di questa cosa è l'insieme di provvedimenti che erano stati fatti intorno a metà degli anni 15 cioè il Jobs Act il 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 patent box industria 4.0 cioè tutti quei provvedimenti che in qualche modo avevano ridotto non dico il livello di regolazione ma lo avevano avevano restituito flessibilità e avendo restituito flessibilità al sistema la capacità imprenditoriale è esplosa perché gli italiani le cose le sanno fare e le sanno fare anche in termini tecnologici come le sanno fare i francesi e come le sanno fare i tedeschi il problema della regolazione secondo me è un problema di equilibrio di regolazione cioè bisogna regolare e qui gli Stati Uniti hanno fatto troppo poco e bisogna evitare che la regolazione sia eccessiva impedendo lo sviluppo degli spiriti animali un'altra cosa che aveva fatto Clinton a valle del provvedimento del 96 sulla riforma del Telecommunications Act è stato quello di liberalizzare completamente la formazione delle imprese cioè un nuovo imprenditore poteva essere libero da qualsiasi vincolo da qualsiasi condizionamento ora voi pensate che quello che succede in Italia dove qualsiasi impresa anche piccola deve fare per dire una cosa tutta la procedura antimafia cioè è una cosa che imbalanza tutti gli americani tutti quelli che vengono investiti in Italia quando per qualsiasi cosa devono fare le certificazioni antimafia una roba banale ma testimonia del fatto che l'eccesso di regole l'eccesso di regolazione è disastroso come è disastroso il dare orientamenti su dove si debba arrivare perché un'altra degli elementi che hanno fatto il successo degli Stati Uniti negli anni 50 ora voi pensate una cosa la Germania e l'Italia durante la guerra la seconda guerra mondiale erano le nazioni più avanzate in termini scientifici e tecnologici per lo sviluppo della bomba atomica i tedeschi avevano Heisenberg che ci lavorava avevano Planck avevano una quantità i cervelli straordinari l'Italia aveva il gruppo di via Panisperna aveva i più grandi scienziati cosa è successo negli Stati Uniti è successo che un personaggio un direttore uno dei professori dell'MIT Vannevar Bush ha convinto il presidente degli Stati Uniti dell'utilità di lasciare gli scienziati liberi di pensare alle cose che potevano servire a servizio dello sforzo bellico americano e Vannevar Bush è riuscito a fare poi il progetto Manhattan ma ha costruito le fonti del successo tecnologico americano dopo guerra con un memo che viene mandato a viene mandato al presidente americano che si chiama che con un titolo che si chiama Science The Endless Frontier nella quale dà effettivamente l'indicazione che la scienza deve essere sostenuta e lasciata libera di lavorare Robert Khan a me ha detto una volta che il sostegno che viene dato per lo sviluppo del TCP IP aveva due fattori di successo quindi del protocollo di sviluppo di internet il primo è che l'idea l'aveva presa in Europa e l'aveva presa da un ingegnere di telecomunicazione europeo Poussin che aveva per primo sviluppato l'idea della commutazione di pacchetto perché Poussin non è andato avanti perché in Francia il Giscard d'Estaing decise di eliminare il plein calcul e di dare spazio a France Telecom che aveva i suoi progetti industriali e quindi disse no no lasciamo perdere queste cose fantasiose andiamo dietro a un'iniziativa industriale concreta e sosteniamo cioè il problema è che la mente deve essere lasciata libera di svilupparsi Khan appunto mi disse a me è andato a un budget di 5-6 milioni di dollari e non mi hanno chiesto che cosa fare mi hanno detto solamente qual era l'obiettivo finale ora in questo devo dire che l'Europa ha una responsabilità enorme adesso noi ha avuto una capacità straordinaria di reagire alla crisi cioè l'anno scorso quando si è interrotto il flusso dalla Russia del gas si pensava che saremmo morti perché 40% del fabbisogno di gas in Europa che alimenta tutte le industrie europee venivano dalla Russia la capacità di reazione europea è stata straordinaria quindi ed è stata straordinaria non solo ovviamente l'ha aiutato anche un po' il tempo perché se non ci fosse stato 10 gradi in più di temperatura non avremmo avuto il successo che abbiamo avuto in termini di capacità di reazione ma siamo usciti più forti di prima cioè abbiamo dimostrato a Putin che il suo gas se lo può utilizzare per cuocere le uova al tegamino e che certamente non riuscirà a venderlo alla Cina perché ci vorranno 15 anni prima che riesce a vendere la Cina quindi una capacità di risparmio energetico di risposta politica straordinaria e in questo l'Europa è stata capace di cose grandiosi quindi noi dobbiamo avere forza al nostro interno per capire che abbiamo le risorse le intelligenze le capacità per farlo va creato l'ambiente il contesto che consenta a queste capacità e a queste forze di esprimersi e da questo punto di vista la grande sfida che è quella della transizione energetica deve essere gestita con grande attenzione perché l'idea che si debba andare in una sola direzione rischiando di metterci al traino della Cina che ha sviluppato l'industria oggi la Cina è quella che ha sviluppato la più grande industria di trasformazione energetica di transizione energetica ha il 55% di capacità installata nelle rinnovabili ha un quasi monopolio non è Tesla che si è inventato che ha sviluppato il monopolio dell'auto elettrica è la Cina ci sono un sacco di produttori di auto elettrica in Cina che si stanno sviluppando e stanno importano le carrozzerie come si facevano negli anni 50 negli anni 60 nei paesi del terzo mondo le importano in Italia per assemblarle in Italia e nel resto d'Europa quindi noi non possiamo essere dipendenti della Cina noi dobbiamo avere noi dobbiamo dare indicazioni di dove vogliamo arrivare e la capacità l'intelligenza e l'ingenuity in senso americano cioè la capacità di trovare delle soluzioni a problemi complessi noi ce l'abbiamo basta che venga lasciato fare all'impresa questo è secondo me la risposta e da questo punto di vista devo dire che l'attenzione che è stata data mi fa piacere il presidente Rustichelli le parole che ha detto ma devo dire che tutte le considerazioni che sono state fatte Roberto Viola nelle sue considerazioni sulla forza dell'Europa e la capacità dell'Europa di esprimere tecnologia il primo sistema di videocomunicazione è stato è nato in Europa è nato in Olanda ed è stato acquistato da una società americana perché? perché in Europa mancava la capacità finanziaria per consentire di svilupparsi troppe regole giustamente è stato citato le regole di Basilea troppi vincoli non vanno bene deve essere lasciata libertà di iniziativa e questo consentirà all'Europa che ha la forza perché ha la capacità manifatturiera ha la capacità di sa fare le cose di ottenere il futuro il ruolo che rispetta a livello mondiale io ringrazio veramente tutti è stato io credo che ho visto anche il livello di attenzione da parte della platea è stato un evento molto molto interessante credo che lascerà degli spazi di riflessione ulteriori importanti per tutti quanti quelli che hanno partecipato ringrazio Roberto Viola ringrazio la sorella ringrazio Roberto Lursi che ha condotto la discussione credo che abbiamo speso bene il nostro tempo e grazie a tutti voi per aver partecipato grazie grazie a tutti una buona giornata grazie a tutti